Le emozioni sono tante, la voglia di ricominciare anche è alta, non vedevamo l'ora sinceramente dopo quattro mesi di stop di ritornare al palazzetto per preparare la nuova stagione. Sarà importante creare subito un gruppo, la sintonia, conoscerci sia in campo ma anche fuori perché questo aspetto ci aiuterà soprattutto nei momenti di difficoltà durante tutto l'arco della stagione. La società penso che abbia allestito una buonissima squadra, le mie impressioni, le mie sensazioni sono molto positive, lavorando bene in palestra potrà togliersi soddisfazioni. I riconfermati sono sempre importanti per far ambientare i nuovi giocatori, per far conoscere l'ambiente o comunque anche i modi di fare di una società. Siamo a completa disposizione di tutti i nostri compagni di squadra perché sappiamo quanto è importante questo aspetto. Come ho detto anche l'anno scorso, cercare sempre come ogni anno di alzare l'asticella e cercare di portare la squadra il più alto possibile in classifica.